Non pescare un'altra scusa! Da oggi puoi supportarmi nello shop con il mio codice CREATOR! Clicca in basso a destra sul tasto supporto a un creatore ed inserisci Xyuderone! Daieee! Weee! Bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video! Io sono Xyuder e ragazzi anche in questo capitolo le sfide non mancano e i video sul canale non mancano per aiutarvi. La prima sfida sociale di oggi, locale, atterrare al faro di Lockley, atterrare i doposci e atterrare anche in un'altra location. Ovviamente ragazzi il faro è il faro che tutti conosciamo quindi basta solo atterrarci e parte numero uno. Per quanto riguarda invece la seconda location che si chiama doposci è molto semplice, basta semplicemente raggiungere la parte bassa della mappa vicino all'ultimo monte innevato e avrete già capito che la location non è altro che questa struttura. Quindi una volta atterrati come vedete vi dà la sfida e allora location numero due fatta! Per quanto riguarda la terza ed ultima location invece già la conosciamo ragazzi dobbiamo atterrare nella cima del monte Kai quindi in poche parole è il monte più alto di tutti come vedete siamo nella parte in basso a destra della mappa e allora basta semplicemente raggiungere la vetta quindi il punto più alto dove è presente una bandiera arancione e una volta atterrati riusciremo a fare la sfida. Insomma ragazzi anche per oggi il primo video delle news è stato fatto, l'abbiamo completata, mi raccomando non perdete tutti gli altri video sul canale delle news. Dai yeee! Ciao! 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 Grazie.